Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele a Cancello, prega per noi. San Gabriele a Cancello, prega per noi. San Raffaele a Cancello, prega per noi. Nostri Angeli Custodi, pregate per noi. Cari fratelli, care sorelle, Oggi voglio trasmettere a voi il contenuto della homilia del Santo Padre Benedetto XVI che lui ha fatto nel 29 settembre di 2007. Nel Vaticano lui ha realizzato la ordenazione episcopale di sei sacerdoti. E come questa ordenazione era giustamente nel giorno della festa dei tre Arcangeli, San Michele, San Gabriele, San Raffaele, nella sua omilia, lui fa il legame tra il servizio dei Santi Angeli e anche il compito dei Vescovi, che è sommegliante del servizio dei Santi Angeli. Voglio leggere alcune parti di questa omilia. Secondo me è la omilia più profonda di un Papa sui Santi Angeli. Lui dice Che cosa è un Angelo? Per spiegare, in questa conferenza ascoltiamo soltanto queste parti che parlano dei Santi Angeli. Non parlo adesso dei Vescovi. Ma che cosa è un Angelo? Papa Benedetto domanda La Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa ci lasciano sorgere due aspetti. Da una parte l'Angelo è una creatura che sta davanti a Dio. Anche noi siamo creature. L'Angelo è orientato con l'intero suo essere verso Dio. Dobbiamo imparare tanto dei Santi Angeli di essere orientato verso Dio. Tutti e tre i nomi degli Arcangeli finiscono con la parola El che significa Dio. E in latino In latino Dio è iscritto nei loro nomi più ancora nella loro natura. Ma Dio è anche in noi siamo battizzati. Il nome di Dio è in noi. La sua presenza è ancora più. La loro vera natura è l'esistenza in vista di Lui e per Lui. Soltanto quando l'uomo capisce che la nostra vita c'è senso quando la nostra esistenza è orientata a Lui e per Lui la nostra vita diventa felice. Voi vedete che io sempre faccio legame tra i Santi Angeli e la nostra vita. Proprio così si spiega anche il secondo aspetto che caratterizza gli Angeli essi sono messaggeri di Dio. Potanto Dio portano Dio agli uomini aprano il cielo e così aprano la terra. Anche noi siamo chiamati di vivere nell'unione più profonda con Dio ma c'è il compito di portare Dio agli altri. Anche noi dobbiamo essere messaggeri vuol dire discepoli missionari di Cristo. Proprio perché sono presso Dio possono essere anche molto vicini all'uomo. Dio infatti è più intimo a ciascuno di noi di quando non lo siamo noi stessi. gli angeli parlano all'uomo di ciò che costituisce il suo vero essere. Il nostro angelo custode sempre ci mostra il senso vero della nostra vita. di ciò che nella sua vita tanto spesso è coperto e sepolto. È vero. Essi lo chiamano a rientrare in sé stesso toccandolo da parte di Dio. In questo senso anche noi esseri umani dovremo sempre di nuovo diventare angeli gli uni per gli altri. Angeli che ci distolgono da vie spagliate e ci orientano sempre di nuovo verso Dio. Questo vale per tutti noi ma chiaro che il Santo Padre dopo ha detto a questi vescovi voi dovete essere angeli custodi che mostrano il cammino. al cielo a tutte le persone che sono confidati a voi. Dopo di questa introduzione il Santo Padre parla su San Michele San Gabriele San Raffaele. Faccio una sintese. San Michele lo incontramo nella Sacra Scrittura soprattutto nel libro di Daniele nella lettera dell'Apostolo San Giuda Taddeo e nell'Apocalisse. Di questo arcangelo si rendono evidenti in questi testi due funzioni. Egli difende la causa dell'unicità di Dio contro la presunzione del drago del serpente antico come dice Giovanni. È il continuo tentativo del serpente di far credere agli uomini che Dio deve scomparire affinché essi possano diventare grandi. Che inganno che Dio ci ostacola nella nostra libertà e che perciò noi dobbiamo sparazzarci di Lui. Ma il drago non accusa solo Dio. L'Apocalisse lo chiama anche l'accusatore dei nostri fratelli colui che li accusa davanti a Dio giorno e notte. ci accusa Dio chi accusa Dio accusa anche l'uomo. La fede in Dio difende l'uomo in tutte le sue debolezze ed insufficienze. Il fulgore di Dio risplende su ogni singolo. abbiamo bisogno della fede della fedeltà a Dio che San Michele ci aiuta. L'altra funzione di Michele secondo la scrittura è quella di protettore del popolo di Dio. vogliamo ascoltare che cosa Papa Benedetto XVI dice sull'arcangelo Gabriele. Incontriamo questo l'arcangelo soprattutto nel prezioso racconto dell'annuncio a Maria dell'incarnazione di Dio nel Vangelo di San Luca. Gabriele è il messaggero dell'incarnazione di Dio e le bussa alla porta di Maria e per suo tramite Dio stesso chiede a Maria il suo sì alla proposta di diventare la madre del Redentore di dare la sua carne umana al verbo eterno di Dio al figlio di Dio ripetutamente il signore bussa anche alle porte del cuore umano nel apocalisse dice all'angelo della chiesa di la odicea e attraverso di lui agli uomini di tutti i tempi ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui cenarò con lui ed egli con me un invito di Dio di aprire il cuore Gesù vuole incanare nel nostro cuore è chiaro che questa incarnazione è diverso dalla incarnazione di Gesù nel grembo di Maria lui incarna attraverso la grazia lui viene per il nostro cuore nella santa comunione nell'eucaristia ascoltiamo che cosa il santo padre dice il signore sta alla porta alla porta del mondo e alla porta di ogni singolo cuore e li bussa per essere fatto entrare l'incarnazione di Dio il suo farsi cane deve continuare adesso sino alla fine dei tempi è una incarnazione vera è una incarnazione spirituale e nella santa comunione è una incarnazione di Gesù con il suo corpo e anima divintà tutti devono essere riuniti in Cristo in un solo corpo Cristo bussa anche oggi e le ha bisogno di persone che per così dire li mettono a disposizione la propria carne che li donano la materia del mondo e della loro vita servendo così all'unificazione tra Dio e il mondo alla riconciliazione del universo siamo chiamati alle nozze con Gesù diciamo il nostro sì ecze fiat come la madre di Dio San Raffaele ci viene presentato soprattutto nel libro di Tobia come l'angelo a cui è affidata la mansione di guarire lui il santo padre fa un legame con Cristo con il compito del sacerdote o del vescovo quando Gesù invia i suoi discepoli in missione al compito del annuncio del Vangelo viene sempre collegato anche quello di guarire il buon samaritano accogliendo e guarendo la persona ferita già sente al margine della strada diventa senza parole un testimone dell'amore di Dio è l'amore di Dio che ci guarisce qual è la cosa più importante che l'uomo in nostri tempi ha più bisogno è l'amore l'amore di Dio è anche l'amore umano questo uomo ferito bisognoso di essere guarito siamo tutti noi annunciare il Vangelo significa già di per sé guarire perché l'uomo necessita soprattutto della verità e dell'amore il Vangelo le parole di Gesù la verità ci guarisce soprattutto l'amore dell'arcangelo Raffaele si riferiscono nel libro di Tobia due compiti di guarigione e li guarisce la comunione disturbata tra uomo e donna guarisce il loro amore scaccia i demoni che sempre di nuovo stracciano e distruggono il loro amore purifica l'atmosfera tra i due e dona loro la capacità di accogliersi a vicenda per sempre nel matrimonio realmente la coppia ha bisogno dell'amore amore di Dio l'amore di un all'altro il perdono San Raffaele ha molto lavoro nel mondo di oggi nei matrimoni nel nuovo testamento l'ordine del matrimonio stabilito nella creazione è minacciato in moto molteplice dal peccato viene guarito dal fatto che Cristo lo accoglie nel suo amore redentore che cosa lui ha fatto e gli fa del matrimonio un sacramento il suo amore salito per noi sulla croce è la forza risanatrice che in tutte le confusioni dona la capacità della riconciliazione purifica l'atmosfera e guarisce le ferite al sacerdote è affidato il compito di condurre gli uomini sempre di nuovo incontro alla forza riconciliatrice dell'amore di Cristo deve essere l'angelo risanatore che li aiuta ad ancorare il loro amore al sacramento e a viverlo con impegno sempre rinnovato a partire da esso in secondo luogo il libro di Tobia parla della guaricione degli occhi gecchi sappiamo tutti quando oggi siamo minacciati dalla cecità per Dio quando grande è il pericolo che di fronte a tutto ciò che sulle cose materiali sappiamo e con esse siamo in grado di fare diventiamo ciechi per la luce di Dio guarire questa cecità mediante il messaggio della fede e la testimonianza dell'amore è il servizio di Raffaele affidato giorno per giorno anche al sacerdote così spontaneamente siamo portati a pensare anche al sacramento della riconciliazione al sacramento della penitenza il sacramento della guarigione la vera ferita dell'anima infatti il motivo di tutte le altre nostre ferite è il peccato questa guarigione soltanto Gesù può realizzare chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati chiediamo Dio la guarigione realmente del nostro cuore ferito che lui ci dà il suo grande amore al fine voglio mettere cinque ponti per la recita del santo rosario nel primo mistero chiediamo che Dio ci dia la grazia di essere orientati a Dio come i santi angeli e di adorarlo questa è la cosa più importante nella vita umana nel secondo misterio chiediamo che siamo angeli custodi visibili per il prossimo nella sua necessità nel terzo mistero chiediamo a San Michele a Cangelo di essere firme nella fede e difendere Dio nella nostra vita nel quarto mistero chiediamo a San Gabriele la grazia di avere un cuore aperto affinché Gesù si incarna in noi e nel quinto mistero chiediamo a San Raffaele la guarigione dei nostri cuori in modo che possiamo amare veramente ed essere guariti della nostra cecità verso Dio vi do la benedizione per intercessione di Maria Santissima i Santi Arcangeli Michele Gabriele Raffaele e i vostri Angeli Custodi vi benedica e guarisce custodisca Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen